Il Brescia torna a vincere e lo fa espugnando il campo del Como. Davanti agli occhi di Thierry Henry, che ha rilevato l'1% della società all'Ariana, la formazione bianco-azzurra vince e convince. 1-0 grazie a Bertagnoli che segna il suo primo gol stagionale, pesantissimo nel primo tempo, su assist di un ottimo Galazzi. E Galazzi è stata una delle notte liete della serata, insieme ai nuovi, Iallo in particolare, Viviani e Benalì entrati a dar manforte d'esperienza soprattutto nel finale di gara. Un Brescia che però perde per infortunio, mangraviti e soprattutto ci stanno a valutare le sue condizioni dopo un'uscita maldestra di Lezzerini, si parla di un dolore alle costole. Un Brescia dunque che va a 6 punti in campionato, che si prepara al meglio per la sfida contro il Perugia e che arriverà finalmente al termine del mercato, perché anche lì forse arriveranno sorprese, ma chissà, questa vittoria può aver dato un segno diverso al futuro delle trattative della società bianco-azzurra.